ciao bambini ciao bambini oggi sei stato a scoppio un po' ritardato ciao come sempre il nostro simone è il più attivo oggi cosa abbiamo pietro chi è? oh cos'è pietro mi hai spaccato ci sono un sacco di bustine della poppa guarda ci sono le bustine della poppa buttale via tutte sul tavolo intendo buttale sul tavolo i paw patrol bellissimi cagnolini che patrullano la propria città patrullano la città vediamo abbiamo l'album di figurine con patrulloni di città cuccioli all'avventura loro fanno delle patrulle per controllare la città oggi pietro mi ha detto il giorno è molto felice di avermi vista questo è l'album di pietro patrullano patrullano la città comunque la città lui è james james lui è james 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 e marshall e noi dobbiamo aprire le bustine per mettere delle figurine dentro che ha detto il marshall il marshall questi bambini stanno morendo io ho già fatto un po' di sei bustine si possono prendere davvero io ho detto due a testa apriamo le due a testa una una e meno due due poi vediamo continuiamo a aprire due bustine a testa riusciamo ad aprire in questo bellissimo video con Simone Pietro via chi inizia si chiama e di dietro e di dietro e di dietro e poi patrullo il cucciolo è l'avventura e dalla prima pagina vediamo cosa manca io ho il 34 44 30 76 e voi? ok io inizio con il primo a vedere se non abbiamo i due pioni 133 i due pioni io non riesco ad aprirlo tu ce la fai ad aprirlo se ci sforzi odio ok io ho trovato il doppione uno in meno chi è? che bravo c'è in schiavola 39 39 una testa bambini io ho trovato una cosa magica vai 39 73 aspetta prima lui 39 si chiama 39 39 in meno avanti adesso sei tu che numero? 73 70 73 a me mi serve 117 73 è occupato soppione qui aspetta avanti 126 si no 117 aspetta bruciamo dai piccoli lui ce l'ha il 6 qua lo attacchi tu? adesso attimi di panico per aprire queste cose si sono un pochino molto attaccabili alle città no non riesco a togliere la fretta lo gioccio io con le unghie? sì io non ce le ho tu non ce l'hai? l'hai tagliato? quasi messo no non mette l'ho storto vuoi una mano anche tu? stortissimo oh che bello ma è super drittissimo invece vediamo l'altro la mia è 117 117 ma scusa prima la 117 ma scusa tu dovevi avere il 118 117 che scherzo liscio ecco è anche questo qui questo è il 177 il tuo è 117 177 eccolo qua vai che bravo chi è? è la sky che bella che è lei è molto cucinosa io ho 126 prima io aspetta perché ho sentito il rumore di qualcosa di rotto e mi è sembrato 180 180 via meno uno meno un doppione io ho 166 due pagine in avanti te cos'hai? 180 180 146 abbiamo trovato il c guardate che bello qui c'è grazie al segnale del telefono di Jake il pack patroller sa dove andare a recuperarlo ma nel frattempo Jake incampa e ciampa e perde lo zaino con il telefono oh no ma lo trova lo scherzo 180 dov'è il 180? non sbagliare là nell'angolo ma scusami perché prima non metto i tuoi che ci sono poi perché Simone ha deciso di far così oggi dove vai? perché vai via senza di me? ok uno c'è io ho 166 147 135 135 155 è lì oh io ho il doppione uffa avanti 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 chi ha? 135 devi farlo mentire ai bambini uh che bello vai 155 qua io lo apro ma tu lo incolli ok? perché a me non mi piace mi si attacca sempre alle dita 155 stiamo per completare questa bellissima immagine ma cosa ci sarà? ci sarà tutta la squadra di Pew Patrol vero? belli per adesso chi vediamo qui la metà di Marshall metà di Sky metà di Chase ok dai 135 135 aspetta c'è il 147 aspetta no e dov'è? qua aspetta dai eh ma eravamo una pagina indietro e poi andiamo alla tua pagina e poi abbiamo finito di completare le nostre tu devi aprire sì io devo aprire perché non si ma loro cosa fanno lì? è una base loro? sì segreta di Pew Patrol tieni metti è di Papa Patrol Papa Patrol Papa Papa non mi vai vai che precisione allora qualcun altro è stato molto torto che bello guardate quanti sono ma quanti sono? quanti sono? quanti sono? dai dai 135 135 ed è già vuoto vai bravo mettilo qui qui è la base stai trova presto il sacerdote ciao ragazzi sto per mettere al contrario penso che simone è andato ah il pietro è andato a cercare i Pew Patrol i Pew Patrol che bello lui come si chiama Rai? Rai Rai eh sì Rai eccola qua l'immagine che abbiamo completato bella 119 119 ma scusa 119 118 non c'è non c'è non c'è io sto prendo già un'altra bustina no non può non mi ha finito le figurine uffa il 34 io chi c'è? la cuccia no 34 34 34 mi hai piaciuto 69 oh io ho trovato il 34 215 c'è scritto che Zuma va a recuperare il mare la cassetta di Capitan Turbo per spingere Aliva cosa vuol dire? chi è Capitan Turbo? 119 te l'ho detto già 119 119 aspetta che metto la 34 io ho Zuma dove c'è scritto che di nuovo il Flounder la famiglia di Mandy e Turbo che bravi vediamo aspetta ma i cuccioli hanno il tempo di divertirsi con le scimiette 191 quindi 44 adesso mettiamo la tua dopo poi la 99 poi la 50 ma io riesco a aprire così tante figurine uff e lei ha teccato a te 199 191 aspetta prima la sua perché lui sta aspettando da tantissimo tempo ma capito ma metti quelle che c'è 191 eh ma non mi fa la fatica a girare le pagine qua vai ce l'ho fatta e la tua è ultima perché dobbiamo salutare i nostri bimbi e finisce qui la nostra bellissima puntata con l'incoramento dei bellissimi sticker nella mia testa vai oh 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 bambini è stato molto molto bello è super divertente con una coda e una trecina vi salutiamo ciao ciao bambini mettete mi piace a questo video di per un po' a trovare e lasciate dei commenti se volete salutati nel prossimo video lasciate un commento con il vostro nome sì di noi ciao bambini oh ciao 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 ciao